Balli di coppia, di gruppo, i corpi che si sfiorano il ritmo della musica e l'emozione di un palcoscenico. Che cosa resta delle scuole di danza penalizzate dal susseguirsi dei decreti da inizio marzo ad oggi? È in crisi anche questo settore con strutture chiuse in tutta Italia. Sono mesi ormai che il governo ha messo il lockdown nell'intero comparto e il problema non è soltanto economico. Le video lezioni non bastano più a chi deve formare i piccoli artisti o a chi vuole insegnare, seguire attentamente e trasmettere passione ai propri allievi. Con molta fatica proviamo a sostenerci proprio nel minimo facendo delle lezioni ovviamente online che rispetto a quello che è la normalità e fare lezioni in presenza è totalmente un lavoro diverso. Questo diciamo che è l'unico modo per riuscire ad andare avanti, per riuscire a rimanere in contatto umano anche con i nostri allievi. Certo non è la stessa cosa ovviamente perché vederli in video è comunque un mezzo un po' asettico però è l'unica possibilità che abbiamo di sopravvivere in questo momento. Non basta dunque vedersi attraverso uno schermo ma serve socializzare, scambiarsi idee, passi e sorrisi economicamente. Poi il settore a pezzi ma la preoccupazione più grande è per il futuro. Ci sono degli aiuti, vi sentite considerati? No, non siamo considerati affatto e anzi siamo proprio messi nell'angolo. Diciamo lo sport in generale ma quello che facciamo noi quindi la nostra arte è stata messa proprio all'angolo. Noi abbiamo cercato di utilizzare tutti i mezzi possibili per poter mettere in sicurezza tutti i ragazzi e noi riusciamo a farlo però non ci è data la possibilità di poterlo fare ecco. Come vi immaginate la ripartenza? Allora noi la possiamo immaginare nei modi più belli, più propositivi. Il problema che sarà una ripartenza lunga e faticosa perché ovviamente dovremo riconquistare la fiducia dei genitori comunque dei bambini che ormai non frequentano più da tanto tempo perché comunque ovviamente c'è paura. Nonostante noi manteniamo un regime molto rigoroso nella pulizia, nel disinfettare tutto. Però dobbiamo riconquistare questa fiducia. Ci vorrà tempo e sicuramente non sarà nell'immediato. Cioè le scuole di danza il loro problema principale è rimettersi poi in gioco in piedi. Ci vorrà un lungo periodo e se anche aprissimo adesso non saremo sicuramente agli stessi regimi di un tempo, quelli che abbiamo lasciato a marzo dell'anno scorso. Assolutamente no. Quindi per noi la ripartenza sarà sicuramente lenta ed è questa la preoccupazione anche più grande perché abbiamo bisogno ancora di tempo per ritornare a quello che eravamo. Ancora tanto tempo.